La digitalizzazione sta cambiando il nostro stile di vita in ogni ambito. La combinazione di tecnologia, creatività ed organizzazione stabilisce nuove connessioni tra persone, luoghi e cose. Da 86 anni, CEFLA costruisce impianti e ne cura la gestione nel tempo. Ma come fare manutenzione nell'era del digitale? L'informatizzazione è l'unica strada possibile. Solo così possiamo adattarci rapidamente a nuovi scenari, sempre più complessi e specifici. I vantaggi sono innumerevoli. Processi snelli e sicuri, big data analysis, fruibilità da remoto e offline, velocità di risposta ed intervento, integrazione con il software del cliente, reportistica digitalizzata, informatizzazione della documentazione, ottimizzazione delle risorse e, infine, controllo della produttività tramite KPI predefiniti. Seguiamo ora un esempio di activity management. Il nostro cliente ci segnala un problema sulla rete di media tensione in piazza di Spagna a Roma. La richiesta viene caricata sul portale. Il caposquadra viene avvisato tempestivamente. La squadra parte. Per trasparenza, lo stato di avanzamento dei lavori è aggiornato di una real time, tramite tablet. A intervento concluso, il cliente riceve immediatamente un avviso. Grazie alla trasformazione digitale della manutenzione, i grandi clienti trovano in CEFLA un supporto innovativo ed insostituibile. Un partner eccellente per risolvere le sfide di domani.